La Foka House. Da oltre 60 anni produciamo nei nostri stabilimenti case prefabbricate in legno per i nostri clienti in Italia e in tutta Europa. In questi anni abbiamo costruito più di 8.000 case prefabbricate, ecosostenibili, in bioedilizia, con i più alti standard produttivi, tecnologici e le certificazioni di legge. Realizziamo ogni progetto, case, villaschiera, capannoni, scuole, ristoranti, centri sportivi, come ampliamenti e sopraelevazioni. Per noi la qualità di ogni particolare, dai legni più pregiati alle rifiniture e il nostro standard quotidiano. 8.000 clienti soddisfatti è il punto di forza della Foka House. Se stai pensando a costruire una casa prefabbricata chiave in mano, basta un solo clic e scoprirei chi è la Foka House e come contattarci. Non ti fidare di chi vende e non produce, noi seguiamo il tuo progetto dall'inizio alla consegna delle chiavi. La Foka House, lo stile italiano, la qualità svedese dal 1960.